In Consiglio Comunale è stata approvata all'unanimità la delibera per la riqualificazione di parte degli edifici della struttura sociosanitaria di Villa Fastigi in via Provini in un vero e proprio ospedale privato riconducibile al gruppo GVM del Maria Cecilia Hospital di Cotignola. Un cambio di destinazione d'uso per circa metà del fabbricato volto a creare una sorta di Cotignola 2 a Villa Fastigi con una degenza chirurgica da 80 posti letto, blocco operatorio, terapia intensiva e ambulatori. La riqualificazione consiste nella realizzazione di una nuova struttura ospedaliera con la previsione di un nuovo blocco operatorio, la terapia intensiva, l'area di diregenza chirurgica per 80 posti letto, la ditta proponente e il Maria Cecilia Hospital. Il cambio di destinazione da RSA a ospedale interessa solo una parte del fabbricato e nello specifico sono 3060,80 metri quadri da destinare a ospedale. La variante consiste nel cambio di destinazione d'uso per parte del primo edificio e la parte del piano terra del secondo edificio per 140 metri quadri e non è previsto un incremento di cubatura. Dunque una delibera provata all'unanimità ma che da Lorenzo Luglia, Dario Andreoli fino a Lisetta Sperindei ha esternato varie riflessioni ideologiche su un'iniziativa privata che avanza laddove la sanità pubblica stenta a tenere il passo.